Io mi sento il miglior, non ho paura dirlo. Mi chiamo Luca, vengo da Sarzana, ho 18 anni. Io non sono tipo un mago giocoso come tutti gli altri, belli, facciocosi, carini, però sono sempre quello che ti lascia un po' di mistero, ti lascia, sai, tipo il film horror quando c'hai la suspense, c'hai un po' di ansia. È una roba del genere. Nessuno si deve permettere di invadere il mio spazio, se no poi si troverà delle sorprese. Io la ragazza le conquisto utilizzando la magia. Riesco a rubare il numero di telefono delle ragazze, quindi rimangono stupite per questa cosa e così ho già il loro numero. La ragazza perfetta per me deve essere tanto cattiva, tanto cattiva. Deve essere una che compete con me perché se non c'è quella competizione io mi annoio, poi cambio subito. Ho questo look perché mi sta da Dio, sinceramente. Non sono l'unico che lo dice. Per me sono il top. La mia famiglia è una situazione particolare. Da piccolino sono stato adottato. Basta, dico solo questo. Basta, dico solo. Grazie.